Il nuovo rapporto sulle povertà da quest'anno prende un titolo, l'abbiamo chiamato Rimandati, perché i dati generali, quelli visibili del mondo Caritas, ci dicono che sono peggiorati rispetto all'anno precedente. Quindi non siamo completamente bocciati come territorio, ma siamo rimandati, abbiamo bisogno ancora di studiare in profondità e possibilmente prevenire certi fenomeni delle povertà. Si può fare un po' un identikit di quella che è la famiglia, perché mi pare che prevalentemente siano famiglie che entrano nella sacca di povertà in provincia di Arezzo? Sono prevalentemente nuclei familiari che si rivolgono al circuito della Caritas. Questo vuol dire che il portatore del bisogno è una persona che viene registrata, ma i beneficiari dei nostri interventi sono ovviamente più persone del nucleo familiare. Quindi abbiamo registrato complessivamente in tutto il territorio diocesano 2.205 famiglie o singole persone e stimiamo una popolazione oltre le 7.000 unità. E con le nazionalità quali sono? E qui si conferma che la nazionalità più registrata è quella italiana e a seguire sono le nazionalità più conosciute, quelle rumene, la nazionalità rumena, la nazionalità albanese, la nazionalità nigeriana e vi discorrendo tutte le altre. La problematica che fa entrare, principalmente, queste famiglie, queste persone nella soglia di povertà, qual è? Sicuramente la perdita del lavoro, sicuramente il pagamento di mutuo, perché vengono sempre più famiglie proprietarie di casa, ma che magari a seguito della perdita del lavoro di un componente non riescono più a soddisfare il pagamento ordinario, rischiano il pignoramento. Ci sono ovviamente problemi di carattere economici i più generali, famiglie che si trovano costrette a decidere se soddisfare i bisogni alimentari o pagare le utenze di casa. E allora a volte, magari, interventi pensati spesso anche insieme ai servizi sociali del territorio permettono a queste famiglie di tirare un respiro di sollievo e riprogrammarsi nuovamente. La povertà oggi è un problema quasi strutturale su ogni territorio del nostro Stato italiano e dobbiamo avere il coraggio di parlare di questi fenomeni. Più ne parliamo e più forse riusciamo anche a trovare delle misure e a lottare la povertà, quindi a contrastarla, a diminuirla e a rendere sempre più le persone indipendenti.